Il concerto di Natale all'Auditorium, i cortili della memoria, laboratori e animazione per i più piccini sono solo alcune delle iniziative in programma a Pagani durante le festività natalizie ad illustrare il ricco cartellone il vicesindaco Valentina Oliva. Natale a Pagani naturalmente come in tante altre città finalmente dopo un anno di chiusura e quindi di assoluta costrizione finalmente ritorna a farsi sentire in città. Ovviamente seppure nelle ristrettezze delle disponibilità sui fondi comunali abbiamo cercato comunque di organizzare tanti eventi ricorrendo anche al recupero di risorse anche nazionali e regionali. Per cui anche grazie al contributo della Camera di Commercio di Confesercenti di Pagani che si sono adoperati per questo e grazie anche ad altri fondi che erano destinati essenzialmente alle attività per bambini siamo riusciti ad organizzare un calendario ricco di eventi. Che purtroppo però ha visto proprio nelle ultime ore già dei cambiamenti a causa della recentissima ordinanza di De Luca che purtroppo vieta la realizzazione di eventi in piazza dal 23 di dicembre fino al 1 di gennaio. In particolare cosa sarà possibile vedere in città per chi dovesse venire a fare un giro qui a Pagani nella città di Sant'Alfonso di Tuscendi dall'esterno? Allora innanzitutto abbiamo allestito in piazza Auditorium la casetta di Babbo Natale che sta riscuotendo un grande successo tra i più piccoli che sarà aperta durante tutti i fini di settimana nonché il 22 e il 23 e dove saranno presenti gli Elfe e Babbo Natale per raccogliere tutte le richieste dei bambini e le letterine. Poi stiamo realizzando una serie di laboratori in varie parti della città ne abbiamo già fatto uno appunto nella casetta di Babbo Natale che era un laboratorio di biscotti natalizi ne faremo un altro domani in piazza Corpo di Cristo e poi ne faremo due in periferia un laboratorio di palline e un altro della casa di Babbo Natale. Questo fine settimana quindi 18 e 19 abbiamo il grande ritorno dei cortili della memoria qui a Via Lamia seppure in forma ridotta quindi con Fabricatore un evento che comunque insomma storico e che quindi siamo felici di aver riproposto. E il 19 inoltre in piazza Auditorium avremo un altro evento molto importante che è Christmas Energy e a tal proposito dobbiamo ringraziare e devo ringraziare tutte le associazioni e le realtà locali che hanno contribuito alla realizzazione anche degli eventi natalizi. Poi il 6 gennaio ci sarà comunque l'arrivo dei Maggi che è comunque un altro evento storico. Abbiamo poi affiancato alle attività per i bambini che ripeto sono tante perché poi ci sono tante altre attività di animazione, il drive-in che appunto realizzeremo comunque nelle giornate del 26 dicembre e del 2 gennaio e comunque consultate sempre la pagina insomma di Lello De Prisco Sindaco perché là ci saranno tutti gli aggiornamenti. Il 21 dicembre avremo un'importante occasione qua nella confraternita della Dolorata perché finalmente ritornerà dopo più di 200 anni la statua di San Carlo che è stata donata appunto da questa amministrazione all'arci confraternita perché sarà accompagnata comunque da un momento di riflessione. Dal 16 alla Purità c'è il presepe che è visibile con la suonata degli zampognari, poi avremo degli spettacoli in teatro che sono tutti gratuiti ai quali è possibile partecipare mediante il ritiro dell'invito presso il teatro auditorium. Ovviamente perché i posti comunque sono quelli che sono e non possiamo andare oltre per non venire meno a quelle che sono le misure di sicurezza. Quindi tanti eventi da seguire e a cui partecipare.